la massa grossa si va con quello piccolo? no, non c'era niente no, penso si va alla dimensione no, penso si va alla dimensione no, ma non c'è niente questi radeggiamenti non esistono io così non lo faccio no, non c'è niente no, non c'è niente no, non c'è niente no, non c'è niente qua lo metti per terra ora a voltare, piano piano si, vai anche più veloce poi lo pubblichi eh da sotto di gruppo ora ha una figata allora se tu sei a metà skip hai tre tacche adesso, sotto, sotto, in cui non lo punta neanche lo guardi altrimenti se vai oltre, lo sale, se vai sotto prova di via se è deciso poi a... si, ma volava e tutto presto lo devo rifare tutto perché non escono più ma adesso è tutto piegato deve che c'è la sera non escono più non escono più no, vale eh è giunto della Drotec e, qual'è la mia voce mi ha sconto aspetta, quella della MMS o con la VT&P? con VMP ok, ok e con Arduino mini Sessi A all' stack e con Tui però adesso è un po' di lavoro perché lo sto passando e io lo devo fare adesso Tui e Arduino mini Sì, perché... No, no, ma anch'io prima la facevo con il ciclo. Ho preso uno lì, perché ho preso una scheda, dove si spinto di sfidarci i mini, lo saltavi, e allora poi... Quella lì... È arrivato? Sì, sì, quella lì. È per quello, solo per quello l'ho preso. Fino a prima volava i denti con il ciclo 328. Anche perché è molto uguale. Però ho ancora la scheda del 328. Guardavo adesso, però vabbè, è un po' preso. Una scheda che fa un giapponese. La... come si chiama? La Nase. E' semplicemente due Nase. Quella che non sembra che montano loro per la Gimbal. No, questa qui era DJI. No, sotto, quella per la Gimbal. Sembra che diceva che montavano la Gimbal. No, la Nasa. Si, la Nasa. La montavano per stare nella Gimbal. No, la Nasa è una cosa, no, io dico un'altra cosa. È una schedina, no? E' una montatura. Io non ho fatto due. E' una montatura. Se lo rifaccio, guarda. Ok. Ho già visto i grafici. Se lo rifaccio, guarda. che cosa? vanno in fronte, adesso questi due sono sbagliati perché non sono tirati.